vaccini iniziate le somministrazioni agli under 40 prenotazioni anche in farmacia da questa sera il coprifuoco slitta a mezzanotte proseguono i controlli anti covid presentate le cinque linee delle navette per l'estate pesarese impresa riuscita per enrico tiberi ed elisabetta galli che conquistano l'everesting una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo degli aggiornamenti relativi alle vaccinazioni anti covid nel fine settimana sono terminati i vax days dedicati agli studenti delle scuole superiori pronti ad affrontare l'esame di maturità e sono invece iniziate le somministrazioni per la fascia d'età che va dai 12 fino ai 39 anni da questa mattina invece le prenotazioni per la campagna vaccinale si ampliano anche le farmacie ne parliamo in questo primo servizio nella prima domenica di giugno la sede vaccinale pesarese ha visto allargarsi la platea anagrafica dei cittadini pronti a ricevere la somministrazione dei vaccini anti covid ieri infatti nei locali dell'ex risto insieme ai maturandi che si sono presentati per l'ultima giornata dei vax days organizzati dalla regione e destinati agli studenti in procinto di affrontare l'esame di maturità c'erano anche trentenni ventenni e ragazzi non ancora maggiorenni cittadini che hanno dunque ricevuto le prime dosi dei vaccini anti covid il giorno dopo l'apertura delle prenotazioni riservate alla fascia d'età compresa tra i 12 e i 39 anni a partire da oggi invece anche sul nostro territorio la campagna di vaccinazione potrà contare sul supporto delle farmacie nelle quali sarà possibile prenotare il giorno e l'orario per le somministrazioni che partiranno dalla prossima settimana. Noi come farmacie comunali di Pesaro abbiamo scelto di aderire e la prenotazione la facciamo in tutte e nove le farmacie di Pesaro e anche in quella di Gabice e poi man mano a seconda anche delle prenotazioni abbiamo già aderito con 5 farmacie su Pesaro e con quella di Gabice proprio per il vero e proprio inoculazione che partirà da mercoledì 16 e quindi dalla prossima settimana. Si partirà soprattutto nelle farmacie dove abbiamo creato i veri e propri hub pensiamo alla farmacia di Via Gioliti cioè la farmacia Costa piuttosto che la farmacia di Soria dove noi a fianco della farmacia esistono degli ambulatori medici e utilizzeremo quegli spazi proprio per fare l'inoculazione per non andare a interferire con la normale attività della farmacia. Poi man mano che vedremo che crescerà il numero dei prenotati perché sicuramente questo succederà ci organizzeremo anche negli altri tre punti vendita che sono quelli di Villa Fastigi, quello di Cattabrighe e quello di Pantano sulla base proprio delle esigenze che abbiamo al momento visto che presumibilmente il vaccino che verrà utilizzato lo Pfizer dobbiamo organizzarci di multipli di 6 perché una boccetta di vaccino contiene 6 dosi e quindi per evitare che vada sprecata anche la minima percentuale di dosi vaccinali dobbiamo attivarci giornalmente a moduli di 6 quindi 6, 12, 18, 24 e via dicendo fino a un massimo di 60 dosi la settimana. Le farmacie aderenti perché non tutte lo faranno per una questione di spazio e anche per una questione di organizzazione hanno propri farmacisti e vaccinatori che si sono formati con due corsi ben distinti, il primo organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e nel caso delle Marche i nostri hanno fatto anche un corso cosiddetto pratico affiancando medici e infermieri negli hub vaccinali esistenti che la regione Marche ha messo in piedi su tutto il territorio. L'obiettivo che il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e tutte le regioni avranno sarà proprio quello di chiudere gli hub vaccinali e di fare in modo che la vaccinazione continui nella normalità attraverso i medici di medicina generale e anche l'utilizzo degli spazi della farmacia un po' come avviene nel resto d'Europa. Cioè fare rientrare la vaccinazione anti-covid come una normale vaccinazione come è avvenuto negli anni con i vaccini anti-influenzali. Il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.006 tamponi, 476 nel percorso nuove diagnosi di cui 118 nello screening con percorso antigenico e 530 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 4,2%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 20 con due nuovi casi registrati nella provincia pesarese. Due invece le vittime notificate nella serata di ieri dal servizio sanità della regione, una delle quali era residente a Tavullia. E sarà posticipato a partire da questa sera l'inizio della fascia oraria interessata dal coprifuoco che dalle 23 slitterà quindi a mezzanotte per rimanere poi attiva fino alle 5 di mattina. Nel frattempo però non si fermano i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti-covid. Entrerà in vigore a partire da questa sera il nuovo slittamento orario che interessa il coprifuoco. Anziché dalle 23 l'inizio del divieto di spostamenti diversi da quelli lavorativi di salute e necessità sarà posticipato a mezzanotte e rimarrà attivo fino alle 5 di mattina. Un nuovo allentamento di una delle misure restrittive più discusse e attualmente in vigore, che verrà abolita a livello nazionale dal prossimo 21 giugno, possibile data in cui le marche potrebbero fare il loro ingresso in zona bianca, la fascia di rischio con minori regole e restrizioni. Nel frattempo però continuano anche sul nostro territorio i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle normative anti-covid. Nell'ultimo fine settimana alcune sanzioni per assembramenti sono state elevate soprattutto nella zona mare, dove anche per qualche locale è scattato l'ammonimento a causa della presenza di troppe persone. Monitoraggio sul territorio che è stato intensificato anche in Romagna, visto il flusso di turisti e giovani giunti in riviera già dai primi giorni della stagione. Nel corso del servizio operato dai carabinieri della Compagnia di Riccione, un 23enne pesarese, sottoposto a controllo perché sorpreso in zona porto a Cattolica, oltre l'orario consentito dal coprifuoco, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha assunto un atteggiamento minaccioso e violento nei confronti dei militari fino ad aggredirli fisicamente. Azioni che hanno costretto i due carabinieri ad ammanettare il giovane, a dichiararlo in arresto per il reato di resistenza pubblico ufficiale e a condurlo in caserma. E sono iniziati oggi i primi interventi per l'installazione dell'area pedonale lungo Viale Trieste. Diversi i cartelli posizionati lungo gli stalli e i parcheggi per indicare il divieto di sosta, mentre questa mattina la circolazione di auto e di altri veicoli era ancora consentita. I lavori degli operai hanno interessato in prima battuta l'allestimento dei supporti per l'illuminazione del tratto pedonale. Già attivo invece da questo fine settimana il parcheggio gratuito allestito negli spazi di Villa Marina. E sono ripartite le navette gratuite per un'estate pesarese, sempre più all'insegna della mobilità sostenibile. Cinque linee che collegheranno Viale Trieste, le spiagge di Sottomonte, Baia Flaminia e da quest'anno anche il Parco San Bartolo. I dettagli nel servizio di Daniele Sacchi. Ci troviamo in strada tra i due porti. Qui al ristorante La Vela si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del servizio di navette gratuite apparecchiato da Comune di Pesaro e Adrebus per l'estate 2021. Un luogo non casuale perché appunto il parcheggio di strada tra i due porti sarà uno dei punti di partenza delle cinque linee di navetta. Tre linee confermate, quella dal San Decenzio a Viale Trieste, dal San Decenzio a Sottomonte, la linea mare notturna, una potenziata appunto questa che da strada tra i due porti porterà in Baia Flaminia e una del tutto nuova, quella che dall'area archeologica di Colombarone porterà sul San Bartolo a Castel di Mezza Fiorenzuola. La consideriamo una spinta fondamentale al turismo, al turismo naturalmente estivo, legato alla qualità della fruizione del mare, legata a un messaggio generale sulla sostenibilità all'ambiente, di tutto l'insieme di servizi integrati che danno nella lunga costa pesarese che vada a Sottomonte fino a Fiorenzuola, sostanzialmente la possibilità di dimenticarsi l'auto un po' più distante e soprattutto quindi non fare neanche giri lunghi e anche inquinanti per cercare il parcheggio. Cinque linee, conferma il potenziamento delle linee conosciute e in particolar modo ci tengo a rimarcare la linea Riviera del San Bartolo, diciamo così, permetterà questa linea di parcheggiare sostanzialmente a Colombarone anche a ridosso del sito archeologico quindi a volte fare anche una esperienza integrata con la visita del sito archeologico e da Colombarone poter raggiungere Castel di Mezzo e Fiorenzuola quindi diciamo senza appesantire il traffico ma godendosi non solo il panorama ma anche in maniera appropriata questi luoghi. Confermate le linee del Sottomonte e Viene Trieste con il parcheggio di scambio al San Decenzio e simbolicamente dove ci troviamo qui oggi alla vela e il parcheggio di scambio l'anno scorso dire il vero poco utilizzato ma abbiamo deciso di insistere che porta a Baia Flaminia. Crediamo che il modo migliore di spendere bene i soldi sia questa collaborazione con Adria Bus per garantire collegamenti green e collegamenti leggeri e togliere il congestionamento di auto da Baia Flaminia. La navetta fra i due porti quest'anno che collega la Baia Flaminia spero che riesca piano piano a decollare come servizio perché è molto importante alleggerire un po' la Baia Flaminia dal traffico dalle tante auto che si vanno a incanalare cercando un parcheggio che poi alla fine parcheggio sempre non c'è per tutti non è possibile trovarlo e avremo sicuramente un miglioramento della qualità anche della vita la Baia Flaminia, meno traffico, meno rumore, meno smog e quindi insomma è una direzione un pochino più green per cercare di dare un po' di ordine a una zona che in questo momento per la bellezza e per l'attrattività che ha è sotto pressione. Sabato 5 giugno è partita la navetta, la novità della navetta verso il San Bartolo così come sono partite quelle da San Decenzio a Velle Trieste e da San Decenzio a Sottomonte. Per le altre bisognerà aspettare il 12 giugno per quel che riguarda la linea notturna delle mare e il 19 giugno per quella che la strada tra i due porti porterà in Baia Flaminia. In questo contesto della presentazione delle navette c'è stata anche l'occasione di battesimo diciamo così per il nuovo presidente di Adribus nominato da alcuni giorni Lara Ottaviani attuale presidente AMI S.P.A. che tra qualche giorno appunto verrà formalizzata come nuovo presidente di Adribus. Come azienda del trasporto pubblico locale ovviamente siamo molto contenti di questa collaborazione che c'è con il comune di Pesaro perché è una collaborazione che mira a raggiungere gli obiettivi della mobilità sostenibile ovviamente al rispetto dell'ambiente e si parte con quella che è un'azione che è a favore anche di quelli che sono i cittadini che possono così usufruire di un servizio importante per raggiungere i luoghi di relax, i luoghi belli del nostro territorio e anche ovviamente appunto un rispetto per il nostro territorio che è sempre al primo posto anche nella mission dell'azienda stessa. Il museo della motocicletta all'ex tribunale. È stato questo l'annuncio fatto dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci durante l'inaugurazione ufficiale della nuova esposizione temporanea dedicata alla collezione Asi Morbidelli al museo Benelli. Ricci ha confermato di aver proposto al ministro Franceschini il progetto. Una volta terminati i lavori all'ex tribunale infatti la collezione Morbidelli verrà spostata nel palazzo del centro storico che potrebbe quindi accogliere anche altre collezioni per diventare una casa nazionale dei motori. E a poco più di un anno dall'inizio dell'emergenza Covid-19 il comune di Pesaro ha deciso di dedicare un'opera a chi ci ha lasciato e chi ci ha protetto. Un monumento artistico che sarà posizionato nei pressi di uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid, ovvero l'ospedale San Salvatore. L'opera sarà realizzata da Antonio Camarrano in arte cubo liquido, artista della scena nazionale ed internazionale, con il supporto di Massimiliano Santini, coordinatore organizzativo degli eventi del comune di Pesaro. L'inaugurazione è prevista nelle prossime settimane. E hanno preso avvio gli interventi di messa in sicurezza e potenziamento di alcune fermate del trasporto pubblico locale in via Flaminia che attraversa la frazione di Lucrezia di Cartoceto. Con i 65 mila euro messi a disposizione dalla Regione Marche e intercettati dall'amministrazione comunale, saranno riqualificate quattro fermate del trasporto pubblico locale dislocate lungo l'importante arteria stradale. Ed è pronta a partire a Fano dal 18 al 25 giugno la nona edizione di Passaggi Festival della Saggistica, il più grande evento estivo italiano dedicato al libro. Ideato e diretto dal giornalista Giovanni Belfiori e curato insieme con Ludovica Zaccarini, il festival metterà in campo l'edizione più lunga di sempre. Otto giorni di eventi tra centro storico e zona balneare. Diversi gli appuntamenti in programma per la rassegna tra presentazioni di libri, laboratori, conversazioni sulla scienza, mostre d'arte per un totale di oltre 120, 80 titoli, 90 autori e 60 ospiti tra giornalisti e personaggi della cultura. E ora cambiamo decisamente argomento perché anche la redazione di Rossini TV si unisce al dolore del collega Alessandro Mazzanti, giornalista del Resto del Carlino, per la scomparsa della moglie Paola Tarini, storica impiegata di redazione del Corriere Adriatico, deceduta lo scorso venerdì a soli 54 anni a causa di un male incurabile. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Cristo Risorto. E ora cambiamo pagina e andiamo a Fano perché sta per prendere il via la seconda edizione del Mercoledì degli Artisti. Dal 9 giugno concerti, poesia e tanti altri spettacoli nei locali del Centro Storico. Una rassegna rigorosamente gratuita tra riconferme e anche volti nuovi. Il servizio è cura di Simone Celli. 14 date. 14 serate da vivere insieme all'insegna della buona musica e dei mille volti dello spettacolo. Il tutto rigorosamente gratuito e en plein air. È così che Fano ama definirsi per la seconda estate consecutiva. Un grande palcoscenico a cielo aperto pensato anche in ottica anti-Covid e che già lo scorso anno si è rivelata una formula vincente. Appuntamento dunque a partire da mercoledì 9 giugno in diversi locali del Centro e non solo. Grazie a questa iniziativa ancora una volta promossa dall'assessorato al turismo del Comune di Fano con la collaborazione artistica e organizzativa dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Seconda edizione del Mercoledì degli Artisti. Quest'iniziativa che vuole valorizzare i tanti artisti professionisti del nostro territorio. Questa iniziativa si basa sulla buona volontà direi proprio dei locali fanesi a partire da uno zoccolo duro che è formato da Senza Tempo di Piazza Costa, Bardanghe Degusteria di Piazza 20 Settembre e il Monnalisa del Pincio. Questi locali per vocazione organizzano da anni attività di spettacolo. Ad essi se ne sono aggiunti altri e tutti assieme sono sostenuti dal Comune di Fano grazie al supporto dell'Orchestra Sinfonica Rossini che si occuperà di valorizzare dal punto di vista della promozione e anche di qualche approfondimento culturale queste belle serate da passare tutti assieme nel centro e non solo della nostra città fanese. Tanti concerti dunque tra le esibizioni di giovani artisti locali e cantanti già affermati. Non solo musica però perché fino a mercoledì 8 settembre ci sarà spazio per l'arte nelle sue tantissime declinazioni dalla poesia alla recitazione passando per la danza. Mi piace sottolineare come anche quest'anno oltre alla musica ci saranno altre arti. Anticipo che ci sarà un pizzico di danza e anche un pizzico di recitazione. Un po' alla volta sveleremo come è consuetudine anche se siamo solo alla seconda edizione di questa iniziativa che parte in un certo modo, cresce perché l'estate è lunga e abbiamo avuto sia l'anno scorso che quest'anno un crescendo di adesioni. Il programma verrà comunicato di settimana in settimana attraverso la pagina facebook del mercoledì degli artisti e le pagine dei locali coinvolti. L'obiettivo come sempre è intrattenere e rendere piacevoli le serate estive ma è anche quello di valorizzare sempre più il potenziale della città della fortuna agli occhi dei tanti turisti. Intanto grazie al grande successo ottenuto lo scorso anno, una manifestazione in pieno stile Fanno en plein air, quindi tutti i mercoledì partendo da questo mercoledì 9 giugno per 14 date in città fanno il mercoledì degli artisti. Quindi una serie di incontri organizzati insieme all'attività economica della città che hanno preso spazio nel suolo pubblico, quindi la possibilità anche di vivere la città a cielo aperto in collaborazione con l'orchestra sinfonica Rossini, quindi possibilità di dare lavoro e spazio agli artisti della nostra città lavorando insieme alle attività economiche, ovviamente rendendo la città più bella e quindi facendola vivere a pieno a tutte le persone che vorranno arrivare nella nostra città. E si è svolta in questo fine settimana la sfida di Enrico Tiberi ed Elisabetta Galli che si sono cimentati in un nuovo everesting, impresa in cui i due protagonisti hanno percorso in bicicletta per oltre 20 volte, salita e poi discesa che da Casinina conduce ad auditore per arrivare ad un dislivello positivo di oltre 8.800 metri pari all'altezza del Monte Everest. Vi racconteremo nel dettaglio la presentazione e poi lo svolgimento di questo evento organizzato e promosso da Fisioradi con due speciali televisivi in onda in prima serata giovedì 10 e lunedì 14 giugno, ma nel frattempo vediamo le interviste realizzate ai protagonisti appena terminata la sfida. Il quinto in meno di un anno e il secondo in un mese, sono emozioni, poi questo qui è ancora più emozionante con la Betta, ogni volta che ne ho, ogni everesting ha una storia a sé come raccontava la Betta, questo qui ha delle emozioni diverse che ho condiviso con lei e adesso ne studiamo già un'altra, ne studiamo. Mi sono messo io alla prova in un'altra esperienza, non io con le mie gambe, con il mio fisico ma la mia mente che ha aiutato un'altra persona, è stata veramente emozionante perché tanto mi aspettavo momenti di crisi, ci sono stati, è stata bravissima lei uscirne, era già tutto me lo aspettavo perché tanto ormai qualche esperienza si sta salita, ce l'ho dai. Siamo poco sopra i 9.000 metri, è una soddisfazione grandissima, devo ringraziare Maurizio e Enrico che veramente mi hanno regalato una bellissima cosa, mi emoziono ma è veramente veramente bella. L'emozione è il minimo che si deve dimostrare al termine di una impresa come questa, un'impresa come questa è un'impresa eccezionale, per te la prima e sicuramente avrai avuto modo nelle tante ore di emozionarti anche in vari momenti, di avere momenti belli, momenti difficili raccontacene uno a tua scelta. Sì, un momento difficile c'è stato sui 6.000 metri, la testa sempre lucida ma le gambe per una scalata mi avevano abbandonato, poi siamo riscesi, abbiamo mangiato e siamo ripartiti per arrivare adesso a 9.000. Non ci fermiamo e continuiamo altre due scalate, andiamo a 10.000. Come dico sempre è normale che quando organizzi qualcosa speri sempre che tutto vada al meglio, non sempre tutto riesce come vuoi, quindi quando facciamo piccoli errori li prendiamo come insegnamenti per poi gli eventi successivi. Ormai siamo in pista da diverso tempo e quindi è normale che l'esperienza ci porta ogni volta sicuramente a fare meglio. Il bello di tutto questo è che ogni volta che organizziamo qualcosa vediamo che abbiamo persone che ci seguono, persone che sono contente di far parte di questo movimento sia nella vita sia nello sport per superare non solo le sfide ma delle volte anche purtroppo i problemi o quello che sono l'incognite della vita bisogna avere una grande forza mentale. Loro lo dimostrano facendo queste cose ma io dico che se riusciamo ad essere sempre concentrati, sempre presenti, sempre lucidi diventa sempre più semplice e sicuramente riusciamo meglio ad affrontare la quotidianità. E questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo gli appuntamenti su Rossini TV. Questa sera in prima serata è una nuova puntata del programma L'arte della bellezza. In prima serata su Rossini TV alle 21.15 e poi in replica nelle prossime giornate con gli orari che sono indicati nel cartello. Vi ricordiamo inoltre che potete seguire Rossini TV anche grazie alla nostra nuova applicazione scaricabile dagli store digitali Apple e Android. Potrete vedere la programmazione di Rossini TV in diretta 24 ore su 24 ma anche rivedere le notizie e i programmi realizzati dalla nostra emittente. E poi l'appuntamento con l'informazione che torna puntuale in diretta domani mattina su Rossini TV alle 7.20 la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini. Grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.